Uè non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi oramai ci siamo Mancano pochissime ore alle 14 giorni d'estate Le sfide che oramai tutti conosciamo se ne parla dappertutto sono uscite le prime informazioni la settimana scorsa Beh ragazzi notizia ufficiale da oggi non sappiamo a che ora forse intorno alle 15 saranno finalmente disponibili Ma nel video di oggi abbiamo anche un sacco di altre di novità tra cui alcune sfide speciali Che non centrano assolutamente con la 14 giorni d'estate Delle cose incredibili che se ho tempo voglio farvi vedere Parleremo anche della nuova arma in arrivo con dei dettagli un po' più interessanti E ovviamente una bella manciata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di Fortnite Prima però voglio ringraziare tutti coloro che utilizzano il mio codice CREATOR XIODERONE Grazie di cuore ragazzi per scioppazzare di prepotenza per supportare il canale Mi raccomando non dimenticate di iscrivervi e soprattutto Di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live Ma prima la devo fare raga ve la devo fare La domandina che voi pensate che io non leggo i vostri commenti Qua sotto invece li leggo E come domanda di oggi Crucio enorme di Fortnite Ma preferisci la R o la K in poche parole L'assalto o l'assalto pesante Ragazzi io l'assalto pesante E' vero che spara più lento Però anche nella versione comune Ti pianta dei 44 di danno che sono meravigliosi da vedere Con una certa moderazione del fuoco Secondo me è straforte Ditemi qual è quello che voi preferite Qua sotto nei commenti Ci tengo Ci tengo Ma quindi Ciao ciao le bande E bando alle ciance Non si può che cominciare con La faccia più bella di Fortnite Il signor Donald Mustard Il direttore generale del team Dei capoccioni che ci permettono di giocare Ogni giorno a Fortnite Vedete che come vi ricordo Spesso e volentieri Quando lui cambia il suo stato O la sua location Nella sua pagina personale Vuol dire qualcosa Ed infatti la modifica arriva Nelle prime ore di ieri Da adesso lui è in spiaggia Come vedete proprio qua ragazzi Location beach E anche la testata della sua pagina Va a riprendere l'immagine Che è quella caratteristica Dei 14 giorni d'estate Arriva ovviamente anche Il tweet ufficiale Sulla pagina Ovviamente Twitter di Epic Games Di Fortnite Che dice Fortnite 14 days of summer Is kicking off tomorrow Il tweet ovviamente di ieri Si riferisce a oggi Cosa succederà In questa modalità ragazzi In questi giorni Sappiamo che ci sono le sfide E va bene Ma Un'arma Riportata fuori Al giorno Per 24 ore Quindi troveremo Ogni giorno Un'arma nuova Nel battle royale Molto probabilmente Che però poi Verrà rimessa In magazzino Ogni giorno Una nuova modalità A tempo limitato Ce ne sono Tantissime ragazzi Davvero Alcune meravigliose Altre un po' meno Ogni giorno Nuove sfide Con premi Con premi Quotidiani E ho anche E ho anche ragazzi Nuovi oggetti Nello shop Everyday Ragazzi 14 giorni Di pura Follia Perché c'è roba nuova Ovunque Tra l'altro ragazzi Come vi anticipavo Eccola qua Il background L'immagine caratteristica Di questa 14 giorni estiva Di fortnite Come vedete Una serie di skin Nuove Tutte nuove Si devo essere sincero A partire dal bigfoot Là sopra di me Per vedere anche Lo stile Di alla deriva Che in realtà È una skin Passando poi Per tante altre Che avremo Il fenicottero Ammesso il fenicottero Prima o poi Si stancheranno Di metterle skin Non avranno Fantasia Per sempre Ma quello che ci interessa Eccolo qua ragazzi Abbiamo già Tutte le sfide Vi ricordo Ne leggiamo alcune Molto velocemente La prima è quella Che ci regala Il backpack Del succo a banana Completando Tutte le sfide Riceveremo Quel backpack Danza In differenti Parti Nelle spiagge Quindi dove ci sono Le spiaggette Con gli ombrelloni Basta ballare Sei volte Per prendere Un emoto Andando un po' più avanti Pop party Balloon decoration Quindi Distruggi le decorazioni Dei palloncini Per ottenere Uno spray O ancora ragazzi Cerca gli unicorni Volanti Vicino Ai Alle swimming Goals Quindi ai buchi Che fanno le piscine Insomma ragazzi Vi ricordo che ogni giorno Vi pubblicherò Il video Guida Delle sfide di fortnite Relative alla 14 giorni Ed ecco qua La seconda pagina Come vedete Regaleranno anche Un doppio piccone Launch fireworks Found along The driver bank Quindi Già un paio di season fa C'erano i fuochi d'artificio Dovremmo andare a cercarli Oppure Paperelle di gomma Insomma Standardi Tanta tanta roba Davvero Super interessante Ma andando avanti Eccola qua Non sappiamo in realtà Se arriverà oggi Con le 14 giorni Dei fortnite O giovedì Perché sinceramente Io non ho visto Nella Nella lobby La dicitura Che ci sia La patch 9.30 L'aggiornamento Della 9.30 Ma la revolver È già Nelle notizie Ragazzi Semplice Affidabile Potente Certe cose Non passano mai Di moda L'unica paura Come già vi anticipavo Era Che possa sostituire La deagle Magari non subito Però in un futuro È molto probabile Che tireranno via Una pistola Perché abbiamo La semplice La silenziata La deagle E adesso Arriverà anche Il revolver Sappiamo Che saranno Nelle versioni Epica E leggendaria Quindi tanta roba Come la deagle Del resto E abbiamo anche Dei dati Solo però Per la versione Leggendaria Vabbè Basta togliere Poca roba Per la versione Epica 66 Il danno 0% La chance Di un colpo critico 1.5 Il fire rate 6 colpi Nel caricatore Il tamburo Ovviamente 1.8 Secondi Il tempo di ricarica E sappiamo Che funzionerà Con i colpi medi Il fatto che ci sia Un caricatore Cioè un tamburo Mi fa pensare Che sia proprio Come la vecchia Revolver Delle season Precedenti Season 3 Sicuramente Forse anche season 4 Quindi i colpi Molto più veloci Uno dopo l'altro Insomma ragazzi Staremo a vedere Cosa ci riserverà Questa nuova pistola Mandando avanti Ragazzi Per chi Fosse Nostalgico Del ritorno Di John Wick Sappiamo Che John Tornerà E non sarà Da solo Ragazzi Per chi non è riuscito A prenderlo Per chi non c'era Per chi non sa neanche Di cosa sto parlando C'è John Wick Su Fortnite Abbiamo giocato Non molto tempo fa La modalità A parer mio Veramente Difficile Ma strabella Ma noi sappiamo E ve ne avevo già parlato Che Quando tornerà John Wick Tornerà Anche Con la skin Di Sofia Che è Un personaggio Del film Di John Wick 3 Abbiamo anche In game Ragazzi Il corpo La parte Iniziale Di Sofia E come vedete Se torniamo indietro Nell'immagine Il vestito Della Dell'attrice Con il vestito Della skin In game Si somigliano davvero Tantissimo E quindi Molto probabilmente La vedremo Presto E chiudiamo Ragazzi Con una roba Molto particolare Di cui vi parlavo Sappiamo Che c'è La skin Singularity Ragazzi Quella Che ha Il casco Che abbiamo visto Tutti Sulla scrivania Nell'evento Del Termine Della season 8 Il Revolt Event Ve lo ricordate Dove abbiamo scelto La Thompson Da riportare dentro Beh ragazzi E' stato scoperto Che quando usciranno Delle sfide Nella mappa Ci saranno Dei caschi Da cercare E ci daranno Degli stili Aggiuntivi Per la skin Come vedete Questi stili Vanno a riprendere I colori Di skin Già famosi Il Durburger L'orsacchiotto Il T-Rex E alla deriva Beh ragazzi Io vi ringrazio tantissimo Per aver guardato Questo video Ho chiuso un po' veloce Un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale Noi Ci vediamo tra poco In live Ciao Eje I Grazie per la visione!